Musica Cari telespettatori ben ritrovati per l'appuntamento con le previsioni meteo di tempo al tempo. Diamo uno sguardo alla situazione generale per mercoledì 28 dicembre. Il flusso nord-orientale proveniente dai Balcani determina ancora il transito di innocui addensamenti più presenti sul versante adriatico ed in prossimità dei rilievi, ma con prevalenza di tempo asciutto. Ecco più da vicino cosa accade in Puglia. Il basso versante adriatico è ancora esposto ad un flusso di correnti orientali, responsabili di nuvolosità variabile, più compatta in mattinata e più frequente sulla Puglia mediterranea. Correnti più umide meridionali sulle regioni del basso versante adriatico causato da una fredda saccatura. Cieli poco o parzialmente nuvolosi, a tratti nuvolosi sul Salento. Mari poco mossi e localmente mossi a largo. Adesso spazio alla situazione della Basilicata e del Molise. In Basilicata, cieli coperti sul Potentino, nubi sparse sul Materano. In Molise, nebbie su Campobasso e aree circostanti, nubi sparse sull'Iserniese. Ed ora le previsioni per le temperature, i venti e i mari. Tempo tuttavia asciutto. Venti moderati deboli settentrionali in ulteriore attenuazione con mari tendenti a poco mossi. Temperature in lieve rialzo sia nei valori massimi che in quelli minimi. Temperature stabili o in lieve rialzo. Venti moderati nordorientali con mari per lo più mossi. Per ora con le nostre previsioni è tutto. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Arrivederci.